Come ogni ricorrenza particolarmente sentita, anche la Festa dei Morti porta con sé una consolidata tradizione culinaria. Nel nostro paese da nord a sud, già qualche giorno prima del 2 novembre, si inizia a fare provvista di leccornie, acquistandole o preparandole in casa. In Sicilia si mangiano soprattutto dolci, per la gioia dei bambini che sono protagonisti indiscussi di questa festività. Il posto d'onore tra i cibi che finiranno sulle nostre tavole in queste ore spetta i tradizionali pupiri zuccaro, dolci antropomorfi nella fattispecie bambole di zucchero dipinte originariamente ispirate ai paladini di Francia. Con il passare del tempo però il riferimento storico ha lasciato spazio ad altre tendenze, come la riproduzione dei personaggi dei cartoni animati amati dai bambini. C'è l'immancabile frutta di martorana, fatta con farina di mandorle e zucchero, e che la tradizione attribuisce all'ingegno delle suore del convento palermitano della martorana, che la prepararono in occasione della visita di un alto prelato a cui non poteranno offrire della frutta vera perché il giardino del monastero era andato a fuoco. E poi le ossa rimortu, biscotti preparati con farina di grano e chiodi di garofano, la cui forma ricorda quella delle tipi umane. In molte famiglie sono i nonni a preparare l'atteso cannistru. C'è un cesto contenente cioccolatini, caramelle, dolci di martorana e frutta secca, dono particolarmente ambito dai bimbi. Non solo dolce ma anche salato. In molte zone della Sicilia si consumano le fave, soprattutto a cunigliu, ovvero bollite e condite con abbondante olio ed origano, e le muffolette, pagnotte rotonde con sesamo, condite ancora con olio e acciughe. Insomma, le prelibatezze da gustare in questi giorni sono davvero tante. Non c'è che l'imbarazzo della scelta.